Il nostro viaggio alla scoperta del mondo agricolo di Coldiretti Asti continua in quel di Moncalvo. Qua siamo in una frazione di Moncalvo che si chiama San Martino e oggi andiamo ad incontrare un giovane agricoltore e allevatore. Qui con noi c'è Alan Bollito dell'azienda agricola Valeggia. Alan, la terza generazione, la tua, di un'azienda molto variegata perché qua siamo in mezzo a un vitigno alle vigne e quindi tutti questi filari di Barbera d'Asti però poco più in là abbiamo poi le stalle con i capi bovini, abbiamo le capre, abbiamo i laboratori, insomma di tutto e di più. Allora tu sei molto giovane, qual è la scelta di continuare questa tradizione di famiglia? Ma io, sì, a me è sempre piaciuto fare questo, ho fatto anche dai miei studi perché sono ingegnere agronomo che ho fatto in Svizzera, poi sono venuto in Italia e ho fatto ancora 5 anni di enologia e perciò sono enologo e dal 2009 sono entrato in azienda con mio papà e mia mamma, poi io ho seguito da solo e quest'anno abbiamo deciso di fare il sovescio in tutti i nostri vigneti, l'abbiamo fatto. Tanto diciamo, che superficie vitata hai e quali sono le produzioni? Allora abbiamo 18 ettari in tutto, di cui ce ne sono 14 di Barbera d'Asti, circa 2 di Fresa, 2 di Grignolino e qualche piccolo appezzamento di internazionali, Cabernet, Sierra, Merloche, però ne faccio poco poco. E qui adesso in questo momento siamo in uno di Barbera, qua proprio quello vicino alla Cascina. E qui abbiamo appunto deciso quest'anno di provare questa pratica del sovescio anche sotto un po' consiglio della Coldiretti perché sono loro che ci hanno detto di provare questa cosa e mi è piaciuta e abbiamo perciò provato un filare sì un filare no, mettere un mix di semi di 13 essenze che apporteranno un concime naturale alle nostre vigne. E già questo è un valore aggiunto. Sì esatto, invece di usare degli altri concimi usiamo un concime naturale. E dalla vigna adesso proseguiamo, andiamo a visitare le stalle, prima quella bovina e poi quella caprina. Qua siamo nella stalla Alan, quindi abbiamo dietro di noi dei capi bovini, pochi ma quelli che sono il fabbisogno per l'agriturismo e poi proseguendo abbiamo anche le caprette. Ecco, raccontiamo un po' la storia di questi capi. Intanto vengono nutriti prevalentemente con tutto... Sì, noi facciamo fiene e erba medica e mentre compriamo un po' di mangime qua... Quindi li seguite durante tutto il ciclo di vita, dopodiché quando partoriranno qua... Allora, i vitelli facciamo solo linea in grasso, perciò compriamo il vitellino piccolo che ha 3-4 mesi e lo cresciamo noi. Sempre razza piemontese, sempre che vengono da questa zona. E questo ricordiamolo bene. Poi una volta che li avete macellati, quindi dove vanno a finire? Nel vostro agriturismo? Nell'agrimacelleria e nell'agriturismo, perciò li vendiamo... un po' lo vendiamo come carne, un po' nel piatto. Quindi è tutto un vostro consumo, diciamo, interno e avete un vostro giro di clienti. Oltre all'allevamento bovino, da qualche tempo, non da molto, avete deciso di affiancare anche un allevamento caprino. Come mai? Sì, in realtà è arrivato tutto insieme, perché quando abbiamo deciso di fare il punto vendita nel 2011 abbiamo deciso di vendere sia la carne razza piemontese che i formaggi e perciò la stalla c'era già e ne abbiamo approfittato per mettere sia i bovini che le capre. Ecco, quindi le capre serviranno per i formaggi? Le capre servono soprattutto per i formaggi. Arrivate a fine carriera, ogni tanto facciamo anche i salami. Quanti anni dura la carriera di una capra? Cinque o sei anni al massimo. Quanti tipi di formaggi realizzate appunto con latte di capra, tra freschi e stagionati? Otto direi, perciò la ricotta fresca, la robiola, i caprini che sono molto simili, sono due cagliate lattiche. Poi ci sono due semi stagionati, questo e un altro che è tipo un brie, molto morbido, dove si può anche mangiare la crosta. Poi c'è la toma, il caprei che è tipo una pasta molle, un quadrato grosso sempre di capra, il blu. Poi facciamo il magno che è una lavorazione con una cagliata lattica stagionata almeno sei mesi e quella rimane più gessato, più asciutto. Il mercato del formaggio di capra è in espansione anche in virtù del fatto che chi ha problemi per esempio di colesterolo, dicono è più digeribile. È più digeribile. È anche più digeribile. Sì, diciamo che noi ne vendiamo parecchio, la gente piace, non sa tanto di capra, il nostro formaggio di capra, è molto delicato, questo è anche dovuto a quello che mangiano. E poi anche alcuni chef della zona, anche importanti, lo stanno prendendo. E tutto questo formaggio qua ricordiamo che in gran parte va a finire nell'agriturismo che abbiamo, poco distante da qua. Esatto, alla Cascina Valleggia di sotto dove abbiamo il nostro agriturismo con 60 poste a sedere e diamo tutti i nostri prodotti compresi i taglieri dei nostri formaggi. Lì vediamo che ci sono tantissimi capretti piccoli, piccolissimi. Quanto hanno? Allora questi qua sono nati dall'inizio di febbraio, hanno al massimo un mese. Quanto restano accanto alla mamma e poi quando iniziano ad alimentarsi per conto loro? Li teniamo circa una settimana, dieci giorni sotto la mamma e poi vengono messi nel loro box dove ci sono sia maschi che femmine e vengono nutriti con la lupa che è una macchina che fa il latte caldo e loro vanno lì vicino e si... Sono anche molto belli e molto così, come dire, graziosi da vedere, no? Tu sei lì che mangi e ti porta via tutto. E quindi anche loro gli date un nome in base al mese di nascita? Ma non a tutte. Poi adesso un po' le vendiamo per altri allevamenti perché ce ne sono veramente tante e un po' invece le teniamo per fare il rimpiazzo delle nostre. Quelli sono quelli che hanno già un anno e che l'anno prossimo andranno a fare latte. Ecco, ci sono degli accorgimenti particolari per quanto riguardano le... non so se ci sono delle malattie, se sono soggette a virus? No, per esempio quest'anno abbiamo avuto un po' di problemi per il fieno che essendo che l'anno scorso era molto asciutto c'era un po' di polvere dentro e loro sono un po' delicate da quel lato lì. Comunque non ci sono grossi problemi. Quindi diciamo che sono capre in salute che non temono nulla. Mi raccontavi che giù nell'agriturismo dove avete anche un recinto con alcuni asini presto dedicherete un'area per le capre e quindi anche... Così almeno la gente che viene a trovarci potrà vedere sia gli asini che le capre. Perché già adesso state organizzando di tanto in tanto degli incontri, dei laboratori di tattici... Alcune volte con i bambini facciamo fare il formaggio, li facciamo vedere a tutte le fasi dal latte al formaggio e poi gli diamo una formaggetta da portare a casa per loro e per la famiglia diciamo. Una delle caratteristiche della tua azienda agricola è che c'è proprio tutto il ciclo completo. Quindi dalla nascita abbiamo visto le capre, abbiamo visto i bovini piccoli che poi diventano grandi, e poi vengono macellati, vengono trasformati, vengono fatti i formaggi e tutto finisce nel tuo agriturismo. E' punto vendita che facciamo tutti due. Non dimentichiamo che per fare tutta questa fase di produzione tu ti avvali anche dei pannelli fotovoltaici proprio per abbattere tutti quelli che sono i costi che di questi ultimi tempi sappiamo che hanno gravato non poco. Quindi tu non hai sentito tanto questa difficoltà della crisi legata a... Ma vabbè, come tutti se non c'era era meglio, però abbiamo cercato sempre di stargli dietro diciamo. Ecco, quindi dicevamo che la vostra cifra stilistica, se così possiamo dire, è di avere veramente il 90% del prodotto che voi somministrate è nell'agriturismo, è nel punto vendita di vostra produzione. Quindi l'agriturismo si trova dove? Che orari ha? Si trova tra Moncalvo e Ponzano, perciò in strada a Sti Casale 4 e siamo aperti dal giovedì alla domenica sia a pranzo che a cena per adesso. Poi se riusciamo 7 su 7 a breve ma non ancora. Quali sono i piatti forti della vostra cucina? Logicamente la carne è una delle nostre cose principali, perciò le costate, le tagliate e anche il bollito che noi abbiamo in carta tutto l'anno. e poi i taglieri di salumi e formaggi che sono tutte cose nostre, perciò direi quelle cose lì. Quindi a Cascina Valeggia, Moncalvo, un angolo di paradiso e di pace per assaporare i profumi e i sapori del Monferrato.